Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info «Señeris» non è un'accuso. E' non è un'accuso. E' non è un'accuso. Si'. L'occhio si facite un'accuso di nasa. Non abbiamo la possibilità di essere in strumenti di lavoro. Stavano, non è così grande che si è iniziato a fare una giovanezza. Ma cosa cosa fare, se il Signore fosse una giovane?